È impossibile Ferrenichi non può essere una poliziotta Ci deve essere un errore Non è possibile quello che sto vedendo C'è una spiegazione? No, 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 Steph Tu non hai capito Io non sono un semplice poliziotto Io faccio parte della SWAT Guarda 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 che cosa ho Va bene Hai un bellissimo scudo blindato E un fucile fortissimo Ma scusa, Steph Mi sembra ovvio Io vado dove ci sono le armi Cioè, mi hanno offerto un lavoro In cui io posso addirittura sparare i detenuti E fare quello che voglio Come potevo rifiutare? No, Ferre, Ferre Aspetta, aspetta, aspetta Forse quando ti hanno proposto questo lavoro Hai capito male Guarda che non è che spari a casa la gente Certo No, ma sei pazzo Ferre Non posso stenderti Non è giusto Perché siamo colleghi Non sei un mio collega Sei un traditore Che non vuoi sparare tutti E sono armato con uno scudo Ragazzi, come va? Io sono Ferre E torniamo dopo tanto tempo Su jailbreak Questa volta Ricopriremo i panni Dei poliziotti Anzi Più precisamente Degli agenti Della SWAT Visto che non l'abbiamo mai fatto Perché abbiamo sempre giocato Da prigionieri Quindi adesso ci divertiremo Un po' nel senso opposto Esattamente Per una volta abbiamo deciso Di shoppare qualcosina Dentro un gioco di Roblox E abbiamo scelto di farlo In questa mappa Perché l'hanno aggiornato un sacco E volevamo provare un pochettino Le armi migliori che ci sono Allora, Ferre Io andrei direttamente A caccia di criminali Perché Sono d'accordo I prigionieri sono quasi tutti disarmati Mi sembra troppo semplice Allora, tu non so se te ne sei reso conto Ma qui fuori c'è il delirio Guarda Ci sono due elicotteri Mi sa che qualcuno È pure già scappato Stef Nel mentre Oh, Ferre, Ferre, Ferre Sparala Sparala Vai, vai, a fuoco, fuoco La stendo Ma non stenderla Sparala proprio Ok, ok Meno male che ci sono io È già una è andata Non vorrei dire Ma ne abbiamo già fatto fuori una Forza, Ferre Andiamo qui Ma non è che Possiamo prendere anche la macchina figa Dato che siamo strafighe Siamo della SWAT Fammi vedere È compresa Ci sta Ci sta Ci sta E questo è figo No, Stef Guardami Oh mio Dio Vai Sono una torretta vivente Vai, Stef Corri Allora, aspetta Dove sono i criminali qui? Accendiamo anche le sirene E siamo pronti Apriteci qua Aprite tutto Forza, forza Andiamo a recuperarli in giro per la città? Sì, sì, sì Andiamo proprio a caccia di criminali Ok Per di più nella mappa Dovrebbero aver raggiunto Un sacco di costruzioni Quindi stai attenta Perché potremmo essere presi Alla sprovvista Ci sono tanti punti strani Ok Esattamente Eccoli Ah no, era un cartello Scusami, Stef Sei seria? Era un cartello Come è fatto, Ferre? Era arancione Come la tuta dei detenuti Un po' mi ha Quest'auto? Qualcuno l'ha lasciata qui? Non è vero No, no, no È del gioco Secondo me no Peggio dei cartelli Vabbè Vabbè, un fail a testa, Ferre Mi sembra giusto Che agenti Terribili Guarda come recupero subito Stef lo stuntman Stef lo stuntman Perché ti hanno messo le rampie Abbiamo perso il veicolo per sempre, Ferre? Cioè, ma mi spiega Che serve uno stante Che ti fa finire in acqua Cioè, una rampa Perché siamo troppo lenti Magari c'è un modo Per andare ancora più veloci E riesci a fare il salto incredibile Eccoli Esci, 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 esci Li vedi? Sì, li vedo Fuoco Fuoco, Ferre sono troppi Ferre sono troppi Tieni copertura soprattutto No, li sparo, li sparo E ho capito Però stai attenta Quella è andata Quella è andata Quella è andata E fuori, che cavolo Meno uno Vai, vai Fuoco, fuoco, fuoco Non potete scappare Mi stanno sparando Mi stanno sparando Mi stanno sparando Oh, mamma mia Sono straforti, Stef Se vedi che stai subendo danno Mettiti lo scudo Mi raccomando No, io lo inseguo Non te mordo Non te mordo E quello E quello lì è quello bravo Allora, mi paro così Ah, ah, mi sto sparando Non è proprio il finale No, Ferre Venga, darti una mano Aiuto, aiuto, aiuto Dove sei? Qui dietro Eccomi Spostati Mi spara, mi spara No, no, no Sparalo tu, sparalo tu Ci penso io, ci penso io Nessuno può ammazzare la mia Ferre Nessuno E mi hanno ucciso però, Stef Perché tu hai detto che mi avresti protetto Invece così non è stato L'hai ucciso, Stef Vabbè, vabbè L'hai ucciso? Sì, sì Ok, ce l'abbiamo fatta quindi Almeno a riprenderli Però in realtà Avevano appena rapinato la banca Secondo me Che dici? È che noi in realtà dovremmo arrestarli Non dovremmo ucciderli Perché? Ti spiego Se tu li uccidi Loro tornano in vita in giro Come criminali Ah, ok Se tu li arresti Diventano di nuovo dei prigionieri Eh, ma questo non me l'avevi spiegato Tu mi hai detto Spara a vista E io ho sparato a vista Adesso mi prendo tutto l'equipaggiamento E ti porto nel posto che io ho trovato Casualmente poco fa Ti dico che per te è il paradiso Ok Ok Quindi adesso mi prendo tutto Ci vediamo dove c'è l'auto Eh, dov'è l'auto? Eh, fuori Ah, sì, dove c'è la spot Sì, stavo arrestando un'altra tipa Scusami Ciao Fere Seguimi, seguimi, seguimi Andiamo, andiamo Ok, quella lì dovrebbe tornare automaticamente da sola Sì, perfetto Sì, perché non era a fare colazione in questo momento Non ci faceva niente qui A cercare di entrare No, no, è fatto bene, è fatto bene, è fatto bene Prova di indovinare che edificio ho trovato, Fere Vediamo se ci arrivi, dai Allora, conoscendoti un posto dove si mangia Un McDonald's No, è bello per te, non per me Un negozio di dolci No Una stazione di polizia più grande No Una prigione più grande Non lo so, Dim Aspetta, te la faccio direttamente vedere Una palestra Per farmi muscoli, ovviamente E per stare Allora, è un posto che ti piace un sacco su GTA Eh, ma me ne piacciono tanti Non è che sia un buon così Aspetta, ma questi No, no, Steffi Andiamo Andiamo, andiamo Ah, ma pure è frenato Cioè, vuole pure fare una rissa Sì Inseguiamolo Inseguiamolo, inseguiamolo, inseguiamolo Aspetta, ma questo qua poi C'è qualcuno dentro No, 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 no Dannazione Mi ha distratto Allora, lo blocco Scendi, 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 scendi Sono entrato in macchina con loro Scendete Spaccalo Non è una buona idea così E come faccio? Credo che basta sparare Non ho idea Ah, ecco Ok, se tieni le manette Lo puoi far uscire dalla macchina E lo puoi arrestare 3006 Torna nella tua prigione E non provarci mai più Perché i due poliziotti migliori di sempre Sono arrivati in città Però Adesso vanno a divertirsi Con delle cose Che non dovrebbero toccare Andiamo a fare Andiamo Che bella quella macchina Quanto costa? 70.000 Ok, se li tengono Aspettami Sali dove puoi sparare per favore Perché così Se capita un altro inseguimento Tu inizi a mitragliarli Non so come si possa andare qua Aspetta E prima c'è di riuscita No, non lo so, Steffi Vai, vai Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo Mi sto perdendo Mi sto perdendo Stiamo cercando Il posto perfetto Ma quanto sei Sei andato lontano prima Scusami Eh, mi ero perso abbastanza Come hai fatto a finire qui giù? Allora Lasciamolo No, lasciamolo Che sta andando anche nel deserto Ti spiego Ti stavo cercando Perché stavo cercando di tornare in prigione Ma c'era buio Quindi mi ero perso totalmente E ho trovato il paradiso di Ferinichi Ok Eh, forse siamo vicini Ma siamo tornati in città? Eh no, questa è un'altra cittadina È nuova È il negozio di dolci Avevo ragione No Di ciambelle Guarda Dolci E guarda Eh vabbè Eh vabbè Allora, dov'è la mia casa? Perché sicuramente qui vicino c'è anche No, no, Ferre, Ferre, Ferre La casa per me Fere Cosa, dimmi No, no, vieni, vieni, vieni Tu pensi È bello da fuori Ma dentro È meglio Cioè posso comprare? Ferre, guarda Ok Siamo pazzi Ok Ma è come l'amunation Siamo pazzi Capisci? E lì credo che ci sia qualcosa Dove sparare per allenarsi C'è il poligono Oh Guarda Guarda, guarda Ma è bellissimo Hanno fatto proprio come l'amunation È strabello Carino Fammi vedere le armi Ci stavo per sparare, Ferre Ma che non ci possiamo sparare? È rischiato Io sono immuni ai proietti Ah, posso anche entrare qui dentro Che figo Guarda, Stef, la mia nuova arma Che cos'è, Ferre? Eh, non lo so Non mi dice il modello Però dovrebbe Sembra una KM Sembra una KM Sembra, non lo so Ok, allora Grazie Ovviamente me l'hanno data gratis, Stef Beh, certo, era ovvio, Ferre Non avevo dubbio Anche perché non c'è nessuno Quindi forse l'è più rubata che comprata Però Andiamo a vedere Se nel posto dei dolci Ma c'è gente dentro, Ferre Ti stiamo sparando Come c'è gente? Ferre, mi sa che puoi prenderti una bella ciambella Aspetta che l'arresto Guarda, ma perché stai correndo così veloce? Appena ho detto che c'è qualcuno Perché me le possono venne Guarda Buongiorno Ah, salve Ci puoi parlare? No Salve Aspetta, aspetta Mi regalano una ciambella? Scusi Possiamo mangiare? Siamo dei poliziotti più bravi del mondo Teniamo sicuro Me l'ha data, aspetta Guardati nella barra Oh Ce l'ha data Oh mio Dio Ok La tua celeste e la mia rosa Non ci credo Me la mangio Vabbè, grazie Molto buona Molto buona Hanno messo un posto dove prendere nuove armi strafighe Dove pure allenarti Il posto dove mangiare le ciambelle quando hai fame E cosa vuoi dire? Cosa vogliamo di più? E credo ci siano anche altre cose Oltre al fatto che hanno messo rampi ovunque Però direi che dobbiamo tornare a lavorare un po' Sì, dai, basta Allora ci siamo divertiti fin troppo Adesso è il momento di lavorare in modo serio E di mettere tutti a loro Voglio arrestarne almeno dieci, te lo dico Vado con la manetta Pronto, assaltiamolo Vai Assaltiamolo Vai Assaltiamolo L'ho preso L'ho preso Arratato Bravi 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 Torna a tenere la tua cella, disgraziato Marlon21055 Questo oggi non farei nessuna rapina in banca Torna in prigione E vai a ripensare a tutti gli errori che hai fatto nella vita Adesso Ha funzionato questa tattica, Ferè Ha funzionato benissimo Torna su Dove andiamo? Eh, non lo so Torniamo in prigione Vediamo un pochettino che stanno combinando lì 10 C'è anche un elicottero Eh, c'è un altro Fermo, fermo, fermo Uh Vai, 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 vai No, ovviamente lo dobbiamo inseguire in macchina Lo stesso, lo stesso, lo stesso Ah, ma ne hai visto un altro qui Sì, arrestato Eh, Tugati Tugati, sì Tugati, ciao, addio Torna in prigione Ferè c'era uno dietro di noi No, no, Ferè c'è una buggy Guarda 45.000 dollari No, questa è strabella La vorrei troppo provare Ma questa macchina la possiamo prendere? 500.000 Ok, no No, no Ok, ok Eh, start ed arroberi Ferè hanno iniziato una rapina Oh no Hanno iniziato una rapina Muoviamoci, muoviamoci Ma che anzi? Non voglio più fare il poliziotto Basta Vado col fucile a pompa Vado col fucile a pompa Vai, 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 vai No, 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 no Non puoi scappare Disgraziato È scappato Andiamo in banca, andiamo in banca Pensiamo alla banca Dov'è? Non lo so, non mi ricordo più Siamo dei poliziotti terribili Ok, speriamo, dai Magari aspettiamo Non lo so Allora, appostiamoci Esatto Io mi nascondo, guarda Guardami Così Ma è scomparso l'auto? Sì Aspetta, allora Facciamo qua Così Perfetto Bravissimi Appena arriva qualcuno Bravissimi Prima funzionato Rifunzionerà Esatto Ma li visti? Sono appena entrati Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Muoviamoci Mi stanno sparando Ma dai, ti hanno visto Maledizione Vado, vado Metto lo scudo Vado Metto lo scudo Vado Usa qualcosa per stenderli Usa qualcosa per stenderli L'ho preso al volo L'ho preso al volo Dai che ti arresto Aiuto Arrestato Uno l'ho arrestato Uno l'ho arrestato Ferre, non mi morire Mettiti lo scudo Mettiti lo scudo No, l'arresto No Volevo arrestarlo Ferre, perché? E vabbè, Stef Andata così Perché, Ferre? Perché ne avevo due Che mi sparavano Se ne sono ancora Eh, mi hanno ucciso Mi hanno ucciso Eh, vabbè Eh, vabbè Dai, almeno abbiamo fatto Del nostro messo Non devi essere così impavida Dobbiamo essere un po' più strategici Capito? No, allora, Stef Sei tu che ti sei fatto vedere Io volevo entrare Dopo che loro erano entrati Nella banca E li prendevamo lì Con le mani nel sacco Proprio letteralmente E invece tu sbucavi dal palazzo T'hanno visto E te l'hai iniziato a sparare Purtroppo è vero Ma lo sai che si possono Prendere in affitto Gli appartamenti adesso? Ma davvero Costa 6.000 dollari Per jailbreak day Ok Ok E io 4.700 Per intenderci Quindi costa davvero tantissimo Prossimo episodio Se lo facciamo Mi sa che proviamo a prendere l'appartamento C'è questa possibilità Anche perché poi dice Le forniture verranno salvate Per la prossima volta Che tu riaffitti il posto Quindi gli arredamenti Quindi credo che ci sia anche La possibilità di arredare Però 6.000 al giorno È tantissimo Sì Nel caso dobbiamo farmare Un sacco di soldi Però è interessante Non sapevo ci fosse E hanno già noto davvero bene la mappa Per ragazzi Lasciateci un bel like E se ne provate Se il nostro video Potete considerare Di iscrivervi Per non perdere Vieni altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.